A breve lascerà la città di Rovigo per trasferirsi ad Arezzo. Sì, dalla prossima settimana sarò il prefetto di Arezzo, anche se con grande commozione lascio Rovigo, che è un territorio che mi ha accolto con straordinario affetto e che porterò veramente nel mio cuore per sempre. È comunque felice del cambiamento? Sì, professionalmente sono molto contenta perché è una sede economicamente importante, una sede più grande, anche una sede più vicina alla mia famiglia, quindi ai miei effetti familiari. Da questo punto di vista sono molto contenta e onorata, però a Rovigo mi sono trovata non bene di più e quindi chiaramente questo sentimento in questo momento prevale. Che ricordi si porterà del Polesine di Rovigo? Tantissime istantanee di momenti di vita vissuti, tantissimi momenti che hanno caratterizzato questi tre anni. Mi porto tanti ricordi piacevoli e poi soprattutto adesso lascio anche tanti amici, quindi è un'esperienza straordinaria stata. Vuole fare un saluto ai cittadini? Sì, saluto tutti i cittadini di Rovigo, saluto tutti i polesani e vi auguro veramente il meglio. Grazie di quello che mi avete dato. Grazie. Grazie, grazie.